Dio rimarrà il nostro rifugio sicuro. Davide ha incontrato difficoltà e ha chiesto aiuto a Dio. Davide ha incontrato difficoltà e ha chiesto aiuto a Dio. Ha capito che solo Dio ha abbastanza potere per liberarlo completamente. Davide pregò e disse, aiutami, oh Signore mio Dio. Oh, salvami secondo la tua misericordia, affinché sappiano che questa è la tua mano che tu, Signore, l'hai fatta. Maledicili, ma tu li benedicici, quando si alzeranno, si vergogneranno, ma il tuo servo si rallegrerà. I miei accusatori siano rivestiti di vergogna e si coprano di vergogna come di un manto, sal 109, 26 a 29. Lezione, Dio è un forte rifugio nel momento del bisogno, Egli provvederà e proteggerà i Suoi figli che chiedono aiuto. Non importa quanto terribile possa apparire una battaglia, Dio la porterà sotto controllo. Convertirà le maledizioni in benedizioni e trasformerà le oppressioni in promozioni. Nel frattempo, ci si aspetta che i figli di Dio siano, propositivi nelle loro preghiere ed esprimono la loro fiducia in Dio. In modo da poter godere pienamente dei benefici di Dio. Preghiera, caro Dio, capisco che tu sei una forte fortezza per le persone che riservano la loro fiducia in te. Ti invito quindi a difendere il mio interesse contro la volontà dei nemici. Sottometti i miei nemici, e dammi il sopravvento su di loro. Lasciate che Satana e tutti i suoi agenti inciampino nella loro malvagia immaginazione. Nel frattempo, vi chiedo di benedirmi, di farmi da scudo e di darmi la pace che va oltre la comprensione umana. Lasciatemi vivere ogni giorno della mia vita nella vittoria. Perché nel nome di Gesù Cristo faccio le mie richieste. Amen.